Siamo con Ilario Di Buo, una vita sui campi di tiro, da Arciere, un grande campione, grandi risultati e adesso questo esordio come tecnico, hai detto ho fatto un passo indietro dalla linea di tiro ma sempre con grandi emozioni, esordio ai campionati europei, otto podi per l'Italia, che esordio è stato Ilario e quali sono state le tue emozioni? Ho esordito con l'Italia, innanzitutto sono il vice coach, quindi diciamo sono l'aiuto italiano dell'allenatore nuovo che abbiamo, Vizzevan Altene, una valida persona e nel ruolo di allenatore, aiuto allenatore mi trovo abbastanza bene, la prima trasferta che abbiamo fatto è stata appunto quella in Polonia con gli europei, squadra completa, c'erano anche i juniors e le altre specialità del compound, abbiamo tutto dei validi risultati, ottimi risultati direi L'esordio è stato abbastanza faticoso per me, perché insomma l'allenatore ha un ruolo ben diverso, anche se meno fisicamente impegnato e più mentalmente impegnato e quindi il dispegno energetico alla fine della giornata si è sentito, quindi è stato un bel campo di prova, ho iniziato in questo modo e abbiamo ottenuto dei buoni risultati, ripeto Ecco Ilario, ieri parlando al di fuori delle telecamere ti ho chiesto qual era la medaglia che ti ha dato maggiore soddisfazione e tu mi hai risposto il bronzo a squadra dei ragazzi, il perché magari ce lo vuoi rispiegare? Sì, è stata una cosa veramente carina, siamo arrivati al bronzo, ci siamo dovuti dividere, Vizze seguiva le femmine, la squadra femminile e io ho dovuto seguire i maschi perché si amano in contemporanea e quindi non era possibile Ho seguito tutta la squadra, abbiamo perso la finale per loro con la Russia che era molto preparata e ci siamo scontrati in finale per la medaglia di bronzo con la squadra ucraina La cosa simpatica è che nella squadra ucraina c'era il mio ex allenatore che è stato per molti anni in Italia, Victor Sideruc e c'eravamo di fianco di nuovo e li abbiamo battuti Quindi per lui la sua espressione, perché anche chiaramente cercava di non far trapelare niente, però la sua espressione ne era molto soddisfatta Trovarsi di fianco un pivellino come me, perché tra virgolette di esperienza ne ho ben poca come allenatore, come arcena ne ho tanta Alla prima occasione che ci siamo incontrati dalla stessa parte, mi sarei battuto, comunque la mia squadra ha battuto la sua, è stato un attimo un po' emozionante da parte mia e un po' meno divertente da parte sua Ecco Elario, dopo questa prima gara internazionale avete già cominciato a fare un lavoro, devo dire, molto intenso qui al Centro Tecnico Federale Mi sembra che l'atmosfera che si è venuta a creare con i ragazzi sia quella giusta per fare un lavoro proficuo Sì, stiamo iniziando, quindi siamo ancora, non so darti una percentuale, siamo ancora secondo me al 20% Nei prossimi mesi si svilupperà di più l'azione sia rappresentativa, quindi il sapere che ci sono allenatori dietro, alle spalle, con una certa esperienza, una validità sulla carta anche Che possono dar loro una mano, le cose verranno col tempo, quindi stiamo partendo con un 20% Il gruppo si sta pian pianino amalgamando, accettando le figure di Ibiza come allenatore e la mia dall'altra parte della linea, quindi anche la mia come allenatore Le cose andranno meglio più in là, sicuramente il lavoro sarà molto più benefico per tutti se tutti quanti riusciremo a creare questa monia che è stata un po' latente negli ultimi periodi Ecco, Elario, è difficile in questo momento parlare di risultati, voi in questo momento vi state concentrando più sul rapporto con i ragazzi e sul lavoro giornaliero sul campo Piuttosto che sull'obiettivo podio per quelli che saranno poi il Grand Prix, la Coppa del Mondo, giochi del Mediterraneo, campionati del mondo, impegni importantissimi I ragazzi sono già forti, hanno qualcosa in loro che li ha portati a vincere le Olimpiadi Cercheremo di lavorare sulle nuove leve, sul futuro della federazione Come abbiamo già detto, il lavoro di Ibiza è quello, io lo seguo, è quello di appunto non distruggere niente ma dare maggior facilità a tutti quanti per esprimersi al meglio Questo è il lavoro grande che vuole fare i primi periodi, considera che è solamente da due mesi qui, quindi grandi lavori non li vuole fare L'Italia è una grande nazione, arcieristicamente parlando, ha portato sempre ottimi risultati E quindi non è che ci sta tanto, ci sta solamente da riuscire a fare gli esperimenti al massimo, questi sono i lavori iniziali, poi qui ne vedremo Ilario noi ti ringraziamo, ti facciamo un grande in bocca al lupo, se tu riuscissi a vincere come tecnico la metà delle cose che hai vinto come arciere sarebbe comunque un grande successo Grazie, ti ringrazio dell'augurio, speriamo di vincere anche il doppio di quello che ho già mento io, grazie